Ciao a tutti, sono Giacomo Mazzariol, sono l'autore del libro Mio fratello rincori dinosauri, storia mia e di mio fratello gioco la sindrome di Down. Sono qui per parlarvi di un progetto, di una raccolta fondi, per More Than This, che è sostenuto dalla Fondazione Monza Brianza e dalla Cooperativa AERIS. Ed è un progetto per le persone con disabilità che in questo momento hanno dovuto rinunciare, come tutti, alla socialità e trovandosi a casa alcune non hanno i mezzi per continuare un progetto di inclusione e di autonomia e quindi sostenendo More Than This potrete aiutare a prendere i computer e anche l'assistenza di cui si ha bisogno per accedere, per esempio, al mondo dei social network. Quindi chiediamo il vostro sostegno affinché l'inclusione e la possibilità di avere un'inclusione sia una realtà quotidiana anche in questo momento, anche se è un periodo eccezionale. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!